Proprio per questo motivo ho visto le problematiche riguardanti i centri storici, riguardanti sopra... Spopolamento demografico e chiusura di botteghe artigiane ed esercizi del piccolo commercio, un fenomeno che da anni coinvolge numerosi centri storici sempre più assediati da catene commerciali, negozi in franchising e basare etnici. E anche a Fano, come in molte altre città, si registra da anni una lenta ma inesorabile perdita di identità e una trasformazione delle peculiarità caratteristiche del centro. Di questa problematica se ne è discusso lunedì pomeriggio nella Sala della Concordia della Residenza Municipale durante il convegno intitolato Artigiani al Centro, organizzato dalla CNA di Pesero Urbino in collaborazione con l'assessorato e all'attività economica e turismo del Comune di Fano. Bellissimo convegno che arriva a seguito di una serie di analisi che abbiamo voluto fare. Abbiamo presentato qualche mese fa uno studio socio-economico importante per il commercio cittadino. Oggi sposiamo queste idee di CNA, di presentare dei dati sull'artigianato che sappiamo che a livello nazionale sono negativi, ma sappiamo anche che bisogna mantenere prodotti tipici, attività storiche, identità di una città per portarla verso il futuro. Ecco, questa giornata di oggi ci aiuta a capire lo stato dell'arte della città di Fano per poi mettere in campo queste azioni. Durante l'incontro è stata infatti fornita una fotografia del centro storico e delle dinamiche demografiche ed economiche degli ultimi anni. Inoltre sono stati resi noti i dati di uno studio condotto dal centro studi sistema della CNA delle Marche, dati sui quali, come ha riferito il segretario regionale dell'associazione Moreno Bordoni, nel 2023 hanno influito le guerre, l'irreperibilità e i rincari delle materie prime, il caro energia e il caro carburanti, ma anche l'inflazione record che ha portato la BCE all'inalzamento dei tassi di interesse e di conseguenza l'aumento dei mutui. Anche chi aveva in cuore magari di investire in questo momento ha temporeggiato, ha mandato un po' in loop l'economia ovviamente, tutta questa serie di ingredienti che hanno creato una tempesta perfetta. Quindi non ci potevamo aspettare nient'altro, ma ci sono anche elementi che fanno vedere il bicchiere mezzo pieno, soprattutto tra le situazioni. La prima è che dalla scrematura di questi anni difficili, le attività che sono rimaste sono attività robuste, capaci di investire, e di mantenere anche i dipendenti. Il secondo è l'aumento degli addetti, perché la micro piccola media impresa ha continuato ad investire sugli addetti e ha aumentato il numero dei dipendenti. E la terza cosa è comunque la tenuta dell'export. Questo vuol dire che per il futuro, se uno degli elementi che abbiamo detto prima migliorerà, insomma saremo ancora protagonisti. Se volessimo lanciare un messaggio agli artigiani e ai piccoli imprenditori, che cosa potremmo dire? Allora, potremmo dire che sicuramente Fano, come tutte le città, è una città in cui è difficile fare impresa, ma per mille milioni di motivi. Però è anche una città vivace, è una città in cui c'è un'attenzione comunque all'imprenditoria, alla piccola imprenditoria, a quella culturale. Abbiamo una storia comunque di artigianato artistico molto forte, e quindi dobbiamo probabilmente cercare di riscoprire in questi anni, in cui recuperiamo dalla crisi, dal covid, da mille cose, proprio questi aspetti. La nostra città da questo punto di vista può essere fertile, e quindi scommettiamoci in questa imprenditoria.